X a Sexy Horror Story, un titolo decisamente criptico, quello scelto per la versione italiana. L'ho visto l'altro giorno al cinema con la cara Giulia. Ho apprezzato non poco questo film di genere che si rifà al cinema The Exploitation, quel filone che una certa fetta di critica definiva semplicemente esplicito, quindi mostrare l'immostrabile con un'assenza però di contenuto. Questa era un po' la critica, quella con la puzza sotto al naso, la critica d'élite che definiva questi film di genere un divertimento per gente con poca cultura. In realtà questo filone nel corso del tempo ha dimostrato di riuscire a veicolare sotto traccia, in modo più o meno esplicito, a volte anche in maniera più esplicita, però essenzialmente in sottotesto moltissime tematiche, soprattutto sociali, e questo film ci riesce perfettamente. Ho cominciato ad elaborare il tutto in seguito a qualche ora dopo la visione ed ho trovato degli elementi importanti per ragionare di razzismo, chiaramente il film è ambientato nel 79, un certo tipo di mentalità americana, il bigottismo, l'ipocrisia, un tema che spesso affligge anche il sottoscritto, ovvero quello della serenità, della vecchiaia, della perdita del proprio corpo, della forza del proprio corpo, della potenza sessuale, della valenza erotica nei confronti degli altri, il desiderio di sentirsi ancora giovani, l'invidia che si prova verso questi corpi giovani, quindi c'è veramente tanto coperto però da un film che sembra, se vogliamo definirlo così, uno splatter, un horror con molta violenza, senza grandissimo contesto. In realtà adesso entreremo nello specifico per il momento senza spoiler, poi ne parlerò anche un pochino con spoiler, ma vi avvertirò. L'inizio è notevole perché vediamo questo gruppo di individui che vanno a bighellonare un pochettino in giro, ma in realtà hanno un obiettivo ben preciso, ovvero quello di realizzare un film porno, per tirare su due soldi, non sono in una condizione economica molto stabile, e quindi vogliono fare il botto con un film pornografico, cioè un regista, che secondo me è più un'illusione che vuole dare agli altri, ma soprattutto a se stesso, che si approccia a questo progetto, portandosi anche la compagna come assistente, con un fare da regista elevato. No, io non voglio semplicemente fare un film erotico, un film porno, io voglio fare altro, voglio dare veramente qualcosa in più a questo genere. Ripeto, è più che altro una giustificazione, come poi capiremo anche in seguito ad alcune sue reazioni alle scelte della compagna. Abbiamo il performer per Antonomasia, tra l'altro anche un rapper nella realtà, e abbiamo appunto altri elementi che definiscono questa compagine. Apprezzo moltissimo questo tipo di cinema, che mi mostra un po' il dietro le quinte di alcuni set, quando si parla di set pornografici tra l'altro apprezzo ancora di più, o horror, quindi già partiamo benissimo con loro che sono alla ricerca di una location, affittano la stanza da un anziano signore che vive in questa tenuta, un po' in un luogo dimenticato da Dio, nell'America quella più tosta. Il film procede inizialmente in maniera abbastanza tranquilla, c'è un momento di tensione, vede un coccodrillo protagonista della scena, tra l'altro girata in maniera meravigliosa con una camera che riprende dall'alto, questa donna che si sta facendo un bagno in questa gigantesca pozza d'acqua, chiamiamo la pozza, questo coccodrillo che si avvicina a lei ma non vado oltre, diretto benissimo, una fotografia che ricorda effettivamente i film anni 80, c'è la percezione di un cinema che sembra effettivamente naif quando in realtà non lo è, nel senso che ha tutti i mezzi a disposizione, non che sia costato moltissimo, però ha tutti i mezzi moderni a disposizione rispetto ad altri film degli anni 80 o precedenti, che erano fatti tendenzialmente con basso budget, mezzi di fortuna, effetti posticci, e quindi c'è un richiamo un po' anche a quelle che possono essere state le pellicole di Tobey Hooper all'inizio, Wes Craven, essenzialmente poi cos'è il genere Exploitation se non questo, un tentativo di fare due soldi con poco budget, toccando quelli che sono i due punti di interesse maggiori dell'essere umano, quindi il sangue, la violenza e la sessualità. Però, come detto, posso citare Il serpente l'arcobaleno, La casa nera, che forse aveva leggermente più budget perché era un successivo, tre film di Craven, ma anche Le colline hanno gli occhi, lo stesso non aprite quella porta, ci saranno anche dei rimandi a questo film, penso anche ad alcuni film di Fulci, altri leggisti europei, e quindi cercare appunto di portare il pubblico, però quando c'è un regista di un certo spessore dietro una macchina da presa, riesce a fare quello che il regista all'interno di questo film mi lanta di voler fare. E già, questo discorso metacinolografico per me è interessantissimo. Il film, ripeto, levato questo momento di tensione all'interno del lago, presenta un esordio abbastanza tranquillo. Certo, vediamo questo anziano che affitta la casa ai ragazzi con la rispettiva compagna, che sono inquietanti, c'è subito una scena con Fucina, no? Da classico redneck americano, fuori dalla mia proprietà, però procede tranquillamente, quindi vediamo questi ragazzi che in un modo o nell'altro tentano di girare questa pellicola, le varie scene, ci sono anche dei momenti molto divertenti, il consiglio di una delle attrici, ma riprendi in questo modo così sembra il suo cazzo, in una scena girata in un distributore di benzina. Cosa succede? Poi ovviamente, come tutti i film di questo genere, queste due persone, questi due anziani, non sono quello che sembrano e da lì partirà una carneficina. Prima di andare con gli spoiler, devo dirvi che la colonna sonora l'ho trovata azzeccatissima e riesce ad enfatizzare alcuni momenti di tensione a dovere. La fotografia, secondo me, è la cosa più bella di questo film, nelle scene in autostrada, le scene in notturna, le scene in cui ci sono dei guizzi di sangue esasperati, veramente è la cosa più bella del film e dona un apparato veramente estetico notevole a tutto. Anche gli attori, tutti perfettamente in parte, anche se all'interno di questo genere non c'è mai la performance dell'attore singolo a brillare, non è quello il punto, però le facce vanno bene, essenzialmente servono dei caratteristi, servono persone che riescano soltanto con il volto ad esprimere un qualcosa, e anche i due anziani in questo sono perfetti. C'è da dire una cosa che non è spoiler, perché, insomma, è un'informazione risaputa, è spoiler ciò che dirò dopo, ovvero la motivazione di questa scelta, è una delle attrici che all'interno di questo gruppo di ragazzi interpreta anche l'anziana, quindi è sempre lei, e adesso vi dirò anche il perché. Quindi è un film che vi consiglio assolutamente, soprattutto se amate il genere, e non sottovalutatelo, questo mi sento di dire, non sottovalutatelo perché ci sono veramente tanti tanti spunti che piano piano cominceranno ad emergere nella vostra mente, riflettendoci un pochettino. Mi piace anche l'utilizzo perfetto del budget che avevano a disposizione, non c'è un'incuolatura sprecata. Il film, nonostante il ritmo iniziale, abbastanza sostenuto, scorre via che ha una bellezza, poi lì ovviamente subentra anche il gusto personale, io sono un po' felicista, come detto prima, di questi approcci e di questi scenari da film a basso budget, mi piacciono sempre nel cinema, ripeto, c'è anche una componente pornografica, non particolarmente esplicita, però insomma si vedono determinate cose. Tra l'altro è interessante perché l'altro giorno ho visto un altro film che è di un genere completamente opposto, che però ha degli elementi in comune, allora, non mi ricordo il titolo originale, in italiano l'hanno chiamato tipo... Secret qualcosa, non mi ricordo, perché hanno dato sempre un titolo in inglese, che però non è il titolo originale, cioè Colin Firth, ed è un film che appunto sembra il classico film che può piacere a quella critica di cui parlavo prima, quindi un film all'interno di contesti borghesi, di un certo tipo, però presenta comunque anche qui un elemento che si rifà assolutamente al cinema di Explotation, perché c'è la protagonista che è praticamente nuda per tutto il film, soltanto che all'interno di quel contesto, quindi immersa in luoghi regali, con affreschi scenari veramente artistici, anche se vogliamo quindi quadri, ambienti di questo tipo, sembra quasi un dipinto di Botticelli, sequenza dopo sequenza, e non viene percepito come un film esplicito, a basso budget, per quei porci, però in realtà è più o meno la stessa cosa. Il film è anche interessante, non so se lo recensirò, perché non ho moltissimo da dire, un po' pallosetto a tratti, però non male, soprattutto dal punto di vista tecnico. Però ecco, personalmente preferisco 100 volte un film come X, che a parità, diciamo, di intento, se vogliamo, nel senso che alla fine, secondo me, sempre lì si va a parare, quindi da una parte si mostra il corpo in X per una motivazione, però questa cosa viene esplicitata, cioè è un film d'exploitation, è un film di genere, horror, è anche sexy, no? È anche erotico. Dall'altra invece viene un po' nascosto da questo intento, da questo pseudo intento, di voglio fare un film de sé, voglio fare un film raffinato. Secondo me invece c'è più raffinatezza nell'utilizzare un genere definito basso come quello dell'horror e veicolare determinati messaggi, come dicevo anche prima, sotto traccia. Mentre l'altro è più spoglio, a dispetto del guscio. che sembra tutt'altro. Poi magari ve lo scrivo nei commenti il titolo del film, perché adesso veramente mi sfugge. Detto ciò, spoiler. Spoiler, spoiler. Allora, partiamo subito dal discorso legato all'anziana. Sì, ovviamente è interpretata dalla stessa attrice della ragazza, perché c'è tutto un discorso interessantissimo sulla vecchiaia. quindi c'è questa donna anziana che brama la carne... la sua vecchia carne giovine. Interessante questa costruzione. E quindi prova una profondissima invidia verso queste donne, che definisce puttane, non tanto perché bigotta, ma semplicemente perché invidiosa, perché vorrebbe tornare agli antichi fasti della freschezza che non ha più. Infatti è anche affascinata da questa ragazza, che è quella poi che vediamo protagonista per tutto il film, che è presente anche all'interno di quella scena col coccodrillo, che vi dicevo, non so se è coccodrillo o alligatore, non mi ricordo. E quindi la contrapposizione di questo corpo nudo, meraviglioso, di questa giovane, che viene anche mostrato con giustezza. È enfatizzato, ma si percepisce anche questo atteggiamento lascivo, quasi di inconsapevolezza. Cioè questa ragazza è semplicemente giovane e non ha contezza della sua potenza erotica. Anche ovviamente si lascia un po' andare, anche a droga, eccetera. Però quello che mi comunica non tanto la sceneggiatura quanto la scelta del regista nelle sue inquadrature è che questa ragazza non si renda conto di quanto valga in quel preciso momento da un punto di vista estetico. Invece la vecchia che ha perso questa linfa vitale se ne rende conto e brama quella roba lì. Infatti lei a un certo punto si incazza e comincia a uccidere tutti insieme al marito proprio perché è frustrata, il marito ovviamente non può più soddisfarla per impotenza, per paura che il suo cuore si fermi. Quindi c'è tutta questa cosa che mi ossessiona anche, ripeto, no? Quindi la perdita della giovinezza e le inquadrature sulla donna nuda, sulle ragazze poi nude, anche sugli uomini, su questi corpi giovani nudi, non è un caso che le ragazze siano più giovani dei ragazzi levato il regista, ma adesso ci arriverò, mi hanno proprio dato questa fortissima contrapposizione che tra l'altro è una cosa che avevo anche raccontato in una diretta del Cerbero, apprezzo anche nel porno vero e proprio. Amo guardare i porno dove ci sono uomini vecchissimi e donne molto giovani, ovviamente maggiorenne, però nella costruzione di sceneggiatura magari di quel porno anche meno, però come attrice sì. Perché questo? Perché mi eccita anche se vogliamo, perché osservo proprio le due, i due poli della bellezza. Da una parte un essere che ormai non può più vantarsi tra virgolette di questa sua forza fisica, di questa sua freschezza di pelle, ovvero un uomo anziano, molto spesso brutto, bavoso, e dall'altra invece una ragazza giovane che incarna perfettamente tutta la potenza di quegli anni, che si esauriscono anche in fretta, tant'è che i protagonisti dicono a più riprese dobbiamo sfruttare bene questo corpo finché è tale, perché altrimenti quando saremo vecchi nessuno lo vorrà più. C'è tutto un discorso molto interessante anche sulla pornografia, sapete che comunque mi riguarda anche personalmente, tutto il bigottismo, il regista mi ha interessato molto perché a parole si mostra molto aperto, quindi vabbè ma che sarà mai insomma io sono un regista sto facendo un film questo per loro è semplicemente lavoro quindi non è tradimento se c'è una coppia e uno dei due elementi fa sesso con un'altra persona per un film è un film quando poi la sua ragazza la ragazza del regista dice beh lo sai che hai ragione voglio fare anche io una scena perché non voglio perdere questi anni della mia giovinezza con dei impianti lui impazzisce da di matto sbrocca e decide di andarsene e poi fa una brutta fine quindi c'è un po' da questo punto di vista un ribaltamento di un classico stereotipo dello slasher movie dell'horror quindi l'impuro muore nel caso del regista è un po' il contrario il bigotto muore e tutto il film va in questa direzione tra l'altro so che hanno già girato il prequel lo vedrò assolutamente perché questo lavoro di Ty West mi ha veramente affascinato dall'inizio alla fine sono rimasto piacevolmente sorpreso da tutto da tutti questi discorsi dall'utilizzo dell'estetica dall'utilizzo della corona sonora come ho detto la fotografia secondo me è la cosa più interessante i momenti di tensione ci sono ovviamente quell'alligatore non squala quell'alligatore o coccodrillo che dir si voglia come insegna il buon manuale dello sceneggiatore se nel primo atto si vede un fucile nel terzo atto quel fucile sparerà in questo caso se nel primo atto si vede un coccodrillo nel terzo atto quel coccodrillo mangerà ed è quello che succede come vi dicevo anche il razzismo ovviamente questo personaggio nero che inizialmente non viene ben visto dal vecchio vabbè a un certo punto si vede anche il suo proboscide gigantesco forse anche questa cosa qui a parte il fatto che è un attore porno quindi è stato scelto per quel motivo lì però l'invita del pene non è un caso anche dell'uomo bianco in fronte dell'uomo nero ma in particolar modo di questo vecchio che non può più soddisfare la sua donna quindi vedere questo oggetto non meglio identificato che si vede un po' in penombra tra l'altro mi auguro per l'attore che sia il suo anche se non credo perché anche se ho visto con i miei occhi un pene così grosso infatti la mia vita da quel giorno non è stata più la stessa anche questo l'avevo raccontato tra i miei mille aneddoti al Cerbero Podcast è stato veramente un giorno impegnativo per me quando vidi in palestra questo ragazzo nero che effettivamente entrando nella doccia aveva il pene che a malapena sfiorava al suo ginocchio vabbè comunque detto questo a proposito del Cerbero se ancora non l'avete presi in descrizione ci sono i biglietti per il Cerbero Party di Napoli quindi se siete di Napoli o dintorni venite ci possiamo fare una bella chiacchierata anche sul cinema o prima o dopo l'evento con i biglietti VIP che credo siano finiti non lo so magari fate una prova o meglio ieri erano rimasti tipo 6 o 7 quindi credo siano finiti però provate se venite col biglietto VIP potete entrare prima alle 18.30 quindi stiamo lì chiacchieriamo aperitivo c'è la piscina poi alle 21 saremo sul palco verso le 11 finiamo e poi insomma come è stato per quello bellissimo a Roma ci sarà modo anche per parlare di cinema detto questo mi è piaciuta anche la citazione a Fulci l'occhio conficcato come l'occhio della Carlatos in Zombie 2 che dire estremamente soddisfatto di questo lavoro è il cinema che amo il cinema di genere che non si nasconde dietro un dito lo dice esplicitamente sì sì questo è quello che voglio darvi sesso e sangue ma in realtà se ben fatto può dirci ben altro della nostra società e anche della nostra natura grazie a tutti grazie a tutti